Palle adesso, non prende la scorpa eh, stavo andando a prendere la scorpa, la scorpa devi usare Cazzo non ho seguito il gargamella Ah bello caldino Ah bello caldino 5 5, meno male che ha preso 5 Eh no se no faceva subito a zero inutile Meno così via Eh ma io non è facile Non so se la fai a zero come Ecco passi sulla tua No Non puoi passare di là C'era in croce 5 C'era in croce 5 eh Guarda dove è passato prima eh Qui vale il regolamento 3 o la Ah 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 Entra di là È arrivato l'altro cameraman Mo ti segue lui allora Eh ma va Cortina ma ascoltami E se la fai a zero subito non ti scaldi eh Non ti incazzi Ah E Eh Esposta esposta Ehm Bravo Bravo bravo, ho fatto meglio dei pennelli bravo, picchi meglio dei pennelli che ci vuole tanto? non c'è come studiare bravo Zeppi hai studiato? bravo bravo no no, io a settimana vengo giù a campo voglio vedere che questi qua di notte si allenano questi di notte si allenano con lele di notte tra Beruschi e Benduschi si ho cane ragazzi qua ci mangiano le orecchie ormai ma Benelli ma che roba Benelli sei lungo accorgia la moto e lui ha fatto bene si ho cane non pensavo, invece ha girato bene se l'ha fermata e poi ha girato fuori e qua qua dentro non ce l'ha fa perché ha chiuso qua così pensavo che lui sbagliava perché ha chiuso tanto invece è molto freddo è trova ma io troppo non mi piace dai stupiaggini che fate e poi